La mia città sta cambiando. Sta cambiando grazie a un'impresa condivisa iniziata nel 2007. Un percorso che ha coinvolto centinaia di persone. Un percorso costruito sulla partecipazione e la corresponsabilità. Un percorso di lavoro a 360 gradi. Welfare, turismo, cultura e creatività. Mobilità, urbanistica. Paesaggio, impresa e lavoro. Relazione e benessere. Per costruire una visione di futuro. Un futuro che pone al centro la persona. La persona al centro. Poggia su relazioni autentiche. Crea un nuovo rapporto con l'ambiente. Dà più valore al tempo. Un futuro di cui punti cardine sono Identità Sostenibilità Inclusione e coesione Attrattività Benessere e qualità della vita Innovazione Sviluppare e sperimentare l'innovazione L'innovazione ha bisogno di luoghi. Luoghi intesi come vere e proprie piazze di incontro e scambio. Luoghi che generano cultura e progetti. Luoghi fatti di persone. Luoghi che sviluppano innovazione, talenti e creatività. Innovation Marathon Inspirational Talk Innovation Drinks Incontri tra innovatori Aperiseo Scambio di esperienze e di progetti Special Events Workshop formativi in rete con altre realtà Primo miglio Dall'idea di business alla nascita d'impresa Reti territoriali per l'innovazione Formazione Opportunità e finanziamenti per start-up Luoghi che sono nodi di una rete Vive thanks Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.